Dopo lo spavento di ieri sera, mister Piero Braia e Lavellino possono sorridere. L'attaccante Jacopo Murano, uscito anzitempo nel match contro la Juve Stabia fuori al 43esimo minuto gioco per un problema alla Tibia, ha svolto gli esami strumentali questa mattina che hanno scongiurato qualsiasi tipo di problema. Il giocatore sta bene e sarà disponibile per la sfida contro il Catanzaro al Ceravolo. Una buona notizia per i lupi che potranno contare quindi sul numero 9 Lucano in vista del big match contro il Giallo Rossi in programma domenica. Così come non ci sono problemi per Riccardo Maniero, anche lui sostituito a gara in corso, da valutare invece le condizioni dell'altro attaccante, Vincenzo Plescia, l'ex punta della Vibonese e fuori gioco per un'infiammazione alle Tonzille, ennesimo problema stagionale per il siciliano. Occhi puntati anche su Antonino Di Gaudio, in netto miglioramento ma tenuto fuori a scopo precauzionale che potrebbe rientrare nel prossimo match interno contro il Monterosi. Fuori gioco Daniele Mignanelli per la frattura composta del malleolo tibiale, il calciatore sarà di sicuro fermo ai box per qualche mese.